Sette anni di reclusione, tre per la morte in conseguenza di un altro reato e quattro per l'attentata a violenza sessuale di gruppo. Sono queste le richieste di condanna avanzate dal procuratore Roberto Rossi per i due aretini Luca Vanneschi ed Alessandro Albertoni. A processo per la morte di Martina Rossi, la giovane studentessa Ligure precipitata dal sesto piano di un hotel delle Baleari nell'agosto 2011. Tutto quello che dovevo dire l'ho detto nella requisitoria, grazie mille. Per l'accusa Martina sarebbe volata giù mentre stava cercando di sfuggire ad un tentativo di stupro a tradirla l'amiopia ed il panico. Suicidi hanno sempre sostenuto invece i due giovani aretini. I ragazzi si sono scritti fin da subito la sentenza con le loro mani nel momento in cui hanno preteso di sostenere che Martina si sia tolta la vita. Tutte le persone che hanno conosciuto Martina hanno detto che Martina era una persona solare, vitale, solida, vogliosa di vivere più di me e di lei. Quindi non ha alcun senso pensare che Martina improvvisamente possa aver fatto quello che non aveva mai fatto precedentemente in vita sua e non aveva mai fatto negli anni di Milano. Nel corso della sua requisitoria il procuratore Rossi ha ripercorso quanto accaduto nelle prime ore del 3 agosto 2011 i graffi sul collo di Alessandro Albertoni, il fatto che Martina sia volata giù seminuda ed infine le menzogne raccontate dagli imputati, questi gli indizi gravi e concordanti che secondo l'accusa formerebbero una prova granitica a loro carico. È pacifico che Martina sia stata aggredita, ci sono delle lesioni che non si spiegano altro che così, non si spiega perché non avesse i calzoni, non c'è nessun fondamento a giustificare quella crisi che loro hanno evocato. Martina è scappata in preda al panico, è caduta dal poggiolo. Dopo il procuratore hanno preso parola le parti civili, il prossimo 10 dicembre sarà il turno invece delle ringhe e dei legali difensori. Se potessi condensare in una battuta la requisitore del PM direi che più che di processo indiziario si tratta di un processo basato su illazioni e qui mi fermo. La sentenza è tesa per il 14 dicembre.